Sindaco, notizia di qualche minuto fa che è stata estromessa dall'Aggiunta l'assessore Buttari. Perché questa decisione è così forte da parte sua? Perché gli assessori ovviamente devono godere della fiducia, dell'incarico, un incarico fiduciario da parte del sindaco. Con Francesca è iniziata una discussione da un po' di tempo. Prima le ho revocato l'incarico di vice sindaco, sperando che le cose si rimettessero sul giusto binario. Abbiamo continuato a vedere le cose in maniera diversa, a avere diversità di vedute. Quindi forse è il caso per entrambi di prendersi un attimo di stop. Così lei potrà proseguire nella sua attività politica e noi potremo proseguire nella nostra attività amministrativa fino alla fine del mandato. Ora aspetterò l'indicazione del Partito Democratico per la nomina di un suo sostituto. Vedremo le caratteristiche dell'assessore che nomineremo e poi decideremo eventualmente per le deleghe. La mia azione non è un'azione contro il Partito Democratico locale, con il quale mi continuo a sentire, con il quale sono in ottimi rapporti, come ho già scritto nei giorni scorsi anche, ma è una questione personale. L'assessore, lo ripeto, è un uomo che deve, una donna che deve godere della fiducia del sindaco. C'è questo vincolo che è indispensabile, questa caratteristica che è indispensabile. Se viene minata questa fiducia è ovvio che bisogna separare i percorsi. Tutto quello che è accaduto, Luciani, è anche conseguenza dell'imminente inizio della campagna elettorale? Se dicessi di no, mi crescerebbe il naso come Pinocchio, la mascherina poi non farebbe più il suo effetto. Quindi è ovvio che è così, è ovvio che si avvicina il termine di dieci anni di mandato, è ovvio che c'è una gara alla successione perché io non potrei essere ricandidato e voi lo sapete. Quindi tutto questo influisce pesantemente e forse proprio in questo è il nocciolo della questione.